Lo abbiamo detto più volte, questa mattinata è una mattinata davvero ricca di contenuti, di spunti, di riflessioni e continua ad esserlo perché abbiamo in collegamento da Roma Alessandra Morelli, ex delegata per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, una persona di grandissima esperienza che ha lavorato in tantissime parti del mondo, proprio a contatto con i rifugiati e sul tema dell'emergenza profughi, esperienza professionale che poi ha riversato anche nel suo libro Mani che proteggono, storie, luoghi, volti di 30 anni tra guerre e conflitti, guerre e conflitti che purtroppo caratterizzano ancora i nostri giorni, per cui siamo felici di poter scambiare due chiacchiere con Alessandra di ritorno dal Festival del Libro di Torino che si concludeva soltanto ieri, per cui ringraziamo Alessandra per essere qua con noi, buongiorno e bentrovata. Buongiorno, grazie, è davvero un piacere condividere questo spazio di condivisione. È un piacere, è un onore per noi poter accogliere la tua testimonianza dopo tanti anni al servizio delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dicevamo esperienza che hai condensato poi in questo tuo libro pubblicato solo un anno fa che stai portando anche in giro, ma i tuoi impegni sono tanti, molteplici, su più fronti direi. Alessandra facci ecco una sintesi di quello che stai facendo in questi giorni anche attraverso appunto la presentazione del tuo libro. Grazie, grazie davvero di cuore e buongiorno a tutti i telespettatori. Sono rientrata in Italia, oramai sono quasi due anni, un po' più di un anno e mezzo, ci avviciniamo ai due anni e quindi mi considero ancora diciamo così in transizione, una transizione che mi spinge ancora ad essere utile, ma un'utilità che si traduce in restituzione. Ecco, sento molto forte questa parola di dover restituire al mio paese, specialmente ai giovani, agli studenti, a persone che studiano anche politiche sociali, politiche migratorie, restituire davvero gratuitamente ciò che l'esperienza mi ha dato e come poi mi sono formata nell'esperienza. Quindi un progetto che trova molte tematiche nel libro, ma che è un progetto di costruzione, di alfabetizzazione della grammatica dell'umano attraverso il recupero di quei valori specifici e in particolare il valore della cura, della postura della cura, dell'esserci con cura in questo nostro mondo che in fin dei conti raggruppa i valori come la solidarietà, l'inclusione, l'ascesi e l'ospitalità dell'ascolto, la vicinanza, la prossimità e tutto ciò che crea spazio in cui l'umano può svilupparsi e può convivere, soprattutto convivere. Questa esperienza, questo desiderio di voler sviluppare quello che oggi chiamo l'economia della cura nasce proprio dall'esperienza di aver vissuto per tantissimi anni nella disumanizzazione dei diritti disattesi e quindi della guerra. È vero e come dicevamo solo qualche istante fa purtroppo la guerra è sempre un tema di attualità, oggi lo sappiamo su più fronti, i telegiornali ci ricordano che le bombe continuano ad esplodere e tante volte a farne le spese sono proprio i civili che sono persone che vengono schiacciate da dinamiche tante volte anche non immediatamente comprensibili dalla maggior parte di noi. Viviamo un pianeta bello ma fragile e quanto è importante proteggerlo, ce lo ricordi appunto anche attraverso questo libro. Assolutamente, è bello ma fragile, bello e anche delle volte contraddittorio perché è proprio l'umano che lo rende contraddittorio, è l'umano un po' che va contro quello che è il piano iniziale anche di Dio, di una creazione di convivialità e quindi l'uomo attraverso la violenza, i conflitti, la marginalizzazione anche attraverso la cultura dello scarto, altro non fa che andare nell'anticreazione. Quindi è la buona volontà di molti di noi, grazie a Dio, che si mettono in cammino e che cercano appunto di fare quel cammino, di riportare un po' quel cammino originario dell'umano, alfabetizzando di nuovo giustamente. Il libro è un libro che racchiude alcune storie perché scherzando con gli amici fa è tutta la 30 anni in 135 pagine, ovviamente non ci sono 30 anni solo in 135 pagine, ma sono le storie, i volti, le situazioni che hanno cambiato, ma soprattutto reso la mia umanità migliore e quindi sono state introdotte anche perché sono quelle che durante il mio ultimo decollo dal Niger verso l'Italia, guardando dall'oblò del Finistrino, sono quelle che mi sono tornate più in mente, quindi ovviamente quelle che hanno più scritto la loro storia nella mia anima e che ronzano spesso nella mia testa, ma direi anche nel mio cuore perché si tratta di incontri umano. Il libro è un appello davvero, come dicevi tu, a custodire l'umano, a curare l'umano, a nutrire l'umano, ben sapendo, ed è qui la riflessione profonda che tutti noi dovremmo fare, ben sapendo che l'inumano è una possibilità costante dell'umano stesso e questa è la grande, diciamo così, fragilità, no? Nell'umano il disumano è una possibilità costante e al cuore dell'umano ovviamente sta la relazione e da costruirsi con la fatica, la pazienza del dialogo e questo lo potremmo associare anche al costruire la pace, che altro non è che appunto questo appaziente tessitura certosina dell'accoglienza, del dialogo e del riconoscere che l'altro fa parte di te, ecco, questo fa parte della tua esperienza umana. Penso che entrare in questa dinamica di solidarietà, come direbbe Rodotà, Stefano, veramente allora troviamo quella bussola che è nella solidarietà stessa tra umani, che conduce alla risoluzione di crisi dell'umano. Grazie Alessandra per queste bellissime riflessioni, invitiamo i nostri amici telespettatori a percorrere alcune delle tappe della tua esperienza attraverso la lettura di questo libro che sicuramente ci aiuteranno a comprendere meglio il mondo in cui viviamo. Noi ti diamo appuntamento ad una prossima volta perché vogliamo continuare a giovarci della tua esperienza, della tua sensibilità, per cui questo è soltanto un arrivederci. Grazie di cuore davvero, mi sento in famiglia e sono felice di camminare insieme per crescere nella nostra umanità insieme. Grazie Alessandra, buon proseguimento di giornata e arrivederci a presto. Noi ci fermiamo ancora soltanto per qualche istante e poi ritorniamo di nuovo insieme.